Un'abitazione di Palma di Montechiaro è diventata un ring con tanto di rissa nella quale hanno finito per avere dei guai anche i carabinieri accorsi sul posto. Sì, perché due coniugi che stavano litigando in maniera piuttosto intensa tra loro hanno finito per scagliarsi contro i due militari dell'arma intervenuti per riportare l'ordine. Protagonisti in negativo della vicenda, un bracciante agricolo di 44 anni nativo di Favara e la moglie, una casalinga quarantenne anche lei di origine favarese, che si sono beccati le accuse di irresistenza e violenza pubblico ufficiale, lesioni personali aggravate e porto ingiustificato di armi e oggetti atti ad offendere, e anche la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per tre volte a settimana, decisa dal tribunale di Agrigento dopo l'udienza di convalida con cui si è aperto il processo per direttissima. Quando i due carabinieri sono arrivati sul posto hanno infatti dovuto fare i conti con l'inaspettata reazione dei due favaresi, che li hanno aggrediti iniziando a colpirli con calce e pugni, per poi arrivare ad usare un bastone di legno contro i tutori dell'ordine. E ci è voluto un po' per riportare la calma in quella casa. Una volta placata la situazione, i due militari hanno dovuto fare il ricorso alle cure dei medici dell'ospedale San Giacomo d'Alto Passo di Licata per essere curati. Nel corso della colluttazione hanno infatti riportato contusioni, escorazioni e graffi in diverse parti del corpo. Per uno dei due carabinieri la prognosi decisa dai medici è di sette giorni e di cinque per il secondo.